andiamo a partire da live, sono in live, sono in live, perfetto, siamo in live, microfono, siamo in live, signori, 1, 2, 3, FUT Champions arriva, con una vittoria, con lo script totale ieri sera, oggi si riprova a fare una cosa, ma la vedo griscia, le pro icon non mi stanno aspirando, o lo rivendo, mi dispiacerebbe un casino, troppo mi dispiacerebbe, non so poi chi prende, il casino, ho acquittati già avversari, mani alle rompimento, non fate così, ho giocato, mani alle fossi forte, dai dai si inizia, si inizia, prova, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va, è scemo, ma che squadra ha fatto sto qui, ciao Martino, mi concentro al massimo, io vorrei dire, ma si parteceva bene o si, ho già capito che la FUT Champions non potrebbe più in live, non è l'ansia, non sono mai partito così male, no, poi c'ho del piano ma ci usare, quello è il problema grosso, rigore, dai cazzo, dai cazzo, e a chi, e a chi, e a chi, non mi ha tirato, che c***o, e, o, stai giù, palo, e, o, stai giù, 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 a, o, stai giù, e, o, stai giù, a, o, stai giù, e, 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 o, stai giù, Grazie. 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 Del Piero. Alex. Del Piero. Armetto. Nala. Grazie. 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 Andiamo alla terza partita, signori. Tac. L'ho curata la squadra, non mi credo mia. Però di sì. Due vittoria. Anche lì. Abbiamo un bene. Tranquillo, sta squadra. Stanno andando solo a Baylix. Poi siamo a posto. Vediamo il gioco come finisce. 8700. 8700. ... 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 non era fuori gioco non si è buttato dentro la porta vabbè no insegno non male vai passiamo a Nolas accidenti a te andano che casino mamma è uscito ma perché Mirona in Golan e la passa più avanti non capisco stasera usa tutto vabbè è il nostro insomma chi passa la sua corner no non si è girato non mi torniamo alla palla ci sono diciamo di 100min davanti alla palla eeeh cosa pisa dove la spy dove ti pisa su hai finito di fare le finte vabbè adesso non ho chi a fare il coglione tu sei ritardato mi metto vai ritardato vai continua ritardato quando sei ritardato una 10 quando sei ritardato una 10 tanto vinci perché c'è lo script non sei un po' ritardato oh pigio subito y non va mai subito non capisco mi lagherà ma boh è morto non ho sparato terzo anello mai una volta che mi arriva un passaggio mai tutti intercettano qui ho fatto una cazzata enorme guarda la cosa fa sto di bala ti prego prendila non era per lui vabbè ma è andata così questo è uno scherzo è uno scherzo signori è uno scherzo è un fottuto scherzo la telecomandata per forza due occasioni un gol 20 occasioni zero gol e a questo futchampions non ci si può fare nulla non si pede non si può non si può vincere non ne faccio più live tanto non riesci a giocare live non capisco perché da solo 20 27 e qui non si può fare una sega ne devo perdere tutte 2-2 ma dove sono arrivato anche Del Piero prima non ce l'avevo sarà Del Piero devo fare tutte le partite devo fare ma ne vendo tutto lo vendo 300.000 crediti impossibile sì ma do una bail ma i passaggi non esistono più ormai in questa squadra vendo tutti mi faccio una bronzina faccio giocare meglio sì ok tanto è così futchampions eccola qua non la vinco più una 2-2 ma è successo me ne gioco da sola la faccio prima 27 ora la devo soffrire così ne prendeci partite poi quelle più semplici e non corrono devo giocare autodifensiva ma lo vedi ma come si fa che palle che palle che palle non è che argento non arrivo dai facciamo vedere arrivo con uno no e ora qui in live faccio una sega faccio una sega una fottuta sega faccio 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 una fottuta sega faccio è un'altra fottuta è un'altra fottuta perché così il gioco? la devo dare di bala perché io mai avevo tirato ma perché come la tira più larga? mi sa che bisogna avere una squadra più scherza dove c'è la FUT Champions che vince e il Piero? tu hai finito di fare le giocate pezzo di merda schifo su di ciò che c'è un culo di merda non segno mai neanche con le mani ma con chi è lì? lui e si King Kong dai corci a distanza signore dai dai cazzo con questo inglesino maledetto prende pericoloso delle messe laterali vieni vieni culo a che anima c'ha avuto due tiri a giro tiri a giro no con del Piero no non segno chiesù cosa vuoi fare? andiamo a te questi grossi di merda andiamo a del Piero però insì ma ma chi levo insieme a tutto il cazzo ma niente da del Piero su chi l'ho data guarda? chi l'ho data? non si sa no no ti prego ti prego no no ma la ghiglia neanche io che culo c'hai il cazzo oh ma ma il tuo cazzo di ri fallo? oh 300 di palli 300 300 di palli palle signori io puo perdere tutte le partite gioco da solo Pintisette gioco a live faccio schifo allora sta proprio con un tiri a testa di cazzo eh no vai alessandro del Piero alessandro del Piero alessandro del Piero vale ah signori andiamo a rimontare sto io andiamo a rimontare e perde pallacocche allora 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 è un altro di un pallo ho avuto uno io prima ora cazzo ah necola salve a match vai buona buona prenda corri 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 di testa vai coche di balla mask di balla mask di balla mask bella leon gamer di balla mask tre da due cazzo andiamo è in più di aprire il culo sto qui con le messe laterali deve facciare le finte bene merda bene cazzo cosa fai cosa fai con lo script non c'è più lo script a favore e ora mi segna oh si si fa le fintine coche ma che cazzo fai vabbè corre regalato e go regalato via no modrici non tirare levala levala da fuori aria sto facciando tirare a giro buggati oh ciao erry ecco ciao riederci riederci e grazie sto soffrendo signori via fuga fune di fuga scappa scappa no sto facendo ritardato fammi concentrare un attimo qui l'ho presa questa è una sega l'ho presa da 13 che culo questi corner non so difendere corner c'è belli ci sono tutti no no non ha segnato sono salvo sono salvo sono salvo leon game sono messo malissimo mi sembra 2-2 il mio standard sarebbe arrivo sempre oro 2 l'ultimo ho fatto 27 si è arrivato oro 1 il live è più difficile perché non so sono sotto pressione mi sa che è l'ultimo che facevo il live non mi ha perso le prime 10 faccio sempre 9-1 poi le perdo dopo le partite allora qui l'ho persa tu 3-2 l'ho persa sto soffrendo mi devo concentrare un attimo se no che è la fine però di bala mi fai le finte andavi sulla sinistra parti di bala sei buono sei buono vai di balina sono 7 minuti no ho cercato i rimpalli non sono venuti vale del piano sono di pisa leon gamer è stata bene è stata bene ma perché l'hai con la chat mentre il devo difendere c'entri a me mi ha ministrato un casino ragazzi non avete visto nulla voi chiudete l'occhi sono un mongoloide col portiere andata bene guarda ci ho cusuto culo mi va bene o si stiamo zitti non diciamo nulla sono un mongoloide è fuori gioco ragazzi dopo il 3 a 2 mi sono ero buono corner dopo il 3 a 2 ragazzi sono scombussolato dai 2 minuti su ci si fai la resiste 2 minuti sto prendendo le piene dell'inferno dai cazzo no vieni non fai più 3 a giro te si sono 3 a giro pagati vieni c'è il gomezzino vieni dai faccio un altro gol finisce il match signori ho avuto culo in ultimi minuti 3 vittorie 2 sconfitte lo script è arrivato ma se n'è andato sotto 2 a 0 e si rimonta 3 a 2 non male una gioia c'è il gomezzino dove la carica cos'è? ah gg io non game gg gg mi metto qui va 95 95 andiamo perché vuole i lovici in panchina anch'io beh non voglio perché vediamo che squadretta ci mette contro un leva modric è bagatissimo quest'anno va tutta la Germania tra Madrid e Borussia e Bayern Monaco cazzo Borussia si inizia però un bene signori con Grazie. DiBalaMask? DiBalaMask? DiBalaMask, signori, subito. 2-4 minuti. DiBalaMask? Lasciate like per DiBala... DiBalino... Internazionale. Alessandro del Piero. 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 Quitta? Quitta? Richquitte? Bye bye. Cos'è? Ora in una partita ha girato la squadra. Prima non giro la squadra, ora giro la squadra. Quitte vai, Rich. Ciao ciao. Bye bye. In Cristino se ne è andato via. 4 a 2, signori. 4 win e 2 sconfitte. Questa è la vittoria? Easy, 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 easy Andiamo, andiamo Andiamo con un'altra partita, signore Andiamo con un'altra partita Te Leon and Gamer di dove sei? Aguero, Salah, eh cosa è tosta? Come odio Salah Troppo forte La difesa? Tranqui Ci sono buggato ogni live stanno Come è il terzino sinistro? Fa cavolo lì La Champions Si vedrà subito Ma ti vedo Ma ti vedo Ma ti vedo Ma ti vedo Ma non Ma pensiamo a signarla da lì? Ah, ho capito Ah, siamo lontanini Toscana Sicilia, quindi Buona DJ Ma che cazzo? Nooo L'ho ripresa Avezzi tutti Di paletto T'ho fisso Corrici Nooo Piscito nemmatio di... Non va Cancela tranquillo Fermo qui Vai No Cazzo Cazzo Ma come facci a sbagliare tutti i gol così? Aveva essere un mongoloide No Ma dove l'ho passato? Prendila Bene Ciao Moreno Se ce l'hai Poi farò anche live di Fortnite Aggiungi mi chiamo SC Staccato di 1998 Allora No no Allora devo prendere gol Rigore Come è molto mati di Ah già è fallo di prima Parti del P No è partito di paletto Vado ho visto Arrivederci E l'uno sba Andata bene guarda signora Mi incazzavo il doppio Del P era un milione di credito Mi sbagliare lì Eh ho visto Demone Eh si spera che è un moso Alcune volte mi fai la cappellata Dico Demone secondo me non esca Provalo Perché devi fare L'intesa Deve fare dieci partite Cioè ho giocato i quattro partite Con lui Fammi prendere lo scudino Via L'affarelli Amuro Come si chiama Non c'ha più intesa Quel club Vai insinino Vai bello T'ho visto Del P Vai Del P Ah T'ha spreso Sì bro Te Non so se ci vado Demone Ora vedo Se vedo che perdo Due partiti di fila Su Qui Vado su fortnite Ok Ok Lì Ma dove l'ha Dove l'ha Samongiata Eh santi i nomi Andiamo 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 Grazie Fred Eh però c'hai culo No no Se ti reagire Gol Non male Guarda Allora Damone Ha finito di Invitami No ma Ha tirato Fuori gioco Arzala Dio Non l'ha Arzata Va bene Signori Ok buono studio Leon Alla prossima Ma che cazzo ho fatto Non l'ha Non l'ha Passata Va La prende Vai Ma Ma Ah Ah ma hai sbagliato queste osse anch'io non mi riesco a aspettare un secondo le sti rimpalli se poi si fermava no 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 l'ho passata su a chi l'ho dato meno male penso qualcuno mi so che vai l'ho pigiato a però gioco chi è ma stai giù ti tirano anche un carcere in bocca scatta vai vai raja raja è tua no ma era per del piero gioco gioco infame finisce il primo tempo eh damon mi sono trasferito se non c'è vuolo 100 mega per stream ma c'è vuolo 7 mega cazzo meno male t'ho bloccata non va bene no kill data io ragazzi sono un demente mi faccio perdere in difesa chi è non so dove nessuno demone guarda non raccomando a chi non è ancora scritto lasciate iscrivete lasciate un bel like supportato tanto è gratis iscrizione e tutto allora gori sbank e si va a comandare signori sb non è puri sb 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 Che cazzo stavo facendo Cazzo No No E non male Non male una sega Ma che cazzo sta succedendo Il ping pong Inglese Vieni fa la skill No No sulla fascia dovevo dare Ho sbagliato tutto Dove ho un traporto L'ho portato via Che cambio vuoi fare Inglese Io del piano non volevo mettere Gones Chi c'ha ancora questo No mi dice che sta la rigge Quello 88 Cazzo di gizzo Mamma mia Che rompimento sarà ora Quanto ora le metti Mi sto serio Che cazzo sta facendo In inglese Poi ha tirato come a guerra Non penso Oh ma hai rotto il cazzo Fattelo di Che cazzo Lo schema su udicio Vaffan mok Ma guarda la Il gioco di merda Grazie che mi ho fatto Prendo un gol Grazie Il gioco di merda Non andava via La palla Non andava via Sempre lì Tutti riballi Tutti riballi Tutti 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 Eh vaffan culo Di palla Anche te No no Tutti riballi lì Palla Ma c'è culo cazzo Ma c'è culo Faccio un passaggio Io me ne intercettano tutti Fate voi Non ho parole Sto foot Champions Ma poi io Che cazzo va davanti Con Alessandro Che cazzo va davanti Vieni Salah Su Fai il passaggino Dai Tanto lo so Che la passi Eeeh Code La pasi Protection Cazzo va davanti Sarece Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, vabbè, è stanco, Alenzo corre più di me, dico che fresco. Allora, dei vaffanculo. No, ho sbagliato, cazzo, ho sbagliato. Oh, che pallo, ho sbagliato. Ah, lo so, sono di mente, ecco sì. Che palli però. Due a due, signori, dai. Guardi, 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 risca, risca, risca. più forte no oh ma Fabinho mi hai rotto il cazzo non lo sa bene se mi guarda non lo sapeva mai testare c'è più la partita grazie baila come il papu baila come il papu guero cari coppia gorecca diva mancina 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 t tim ero se dovete regola las pag l inter la ma el la Grazie. Grazie. Sì, c'è una tornata a due. Dai, dai. C'ho tipo una morto. Poggiamo bene. C'ho un balletto morto. Grazie a tutti. No, la devo passare, sono un idiota. Che c***o è sto manevo. La spaglio perché sennò succede come il primo per prendere il gol. La spaglio perché sennò succede come il primo per prendere il gol. La spaglio perché sennò succede come il primo per prendere il gol. 5-2 signori. Si sale ancora. Peccato con le due sconfitte che non c'erano. Mi sa che non arriva questa volta a 20 vittoria. All'inizio non vi perdo male. All'inizio. Tututututututum. All'inizio. E via. Bozzacoli di pala. La caraciura. Vissino. Ciensti. Ottima squadra, signori. All'inizio. Non piace quel zecco lì violetto. Dura, dura. Sare a quanto sare a? Chi le spunterà, signori? Me la legge. Ecco. Perché lagga? All'inizio. Cienso. Vissino. Vissino. Sare a int Nam. Vissino. Bisaguarda. Og c'è. Vissino. Non so. Trovera. Ma dove ho tirato? Pfff, dove cazzo ho tirato, signori? Pfff, dove cazzo ho tirato? Oh, sto soffrendo le penne dell'inferno, signori. Mi lagga poi, mi lagga. Che pare, ma è ora che metto i fili. Eh, oh, mi ha visto. Dio, se la prendevi. Ah, lagga. Sì, vabbè, mi ha rotto il cazzo sto Forenzide. Sì, il zaco c'è un culo dell'anima. Ma è più forte. Guarda che sbaglia. Eh, non è mia mia storia. No! Che culo. Di balamasca, signori. Sì, di baletto. Di baletto masche. Di baletto masche. Di baletto masche. Di baletto. Di baletto masche. Di baletto masche. Di baletto. Di baletto. Fai moci di No Ma che cazzo di col di merda Ma io dire E poi tac Tens Tens very very much Insigne La tarantella 3-0 Spacca la partita signori Spacca tutto La tarantella insigne Spacca tutto Ma che cazzo sta succedendo signori Solo col belli Quinta si No non quinta Ma come mai Ma come mai Non quitti mai No si è bloccato il gioco Me lo dì No si è bloccato il gioco No signori Non voglio perdere la partita Però Dai ma mi dicevo 4-0 Dai ma è ingiusto Che schifo però FIFA Vincevo Oh guarda quindi La sconfitta Ci scommettete Tristezza Via signori Stacco la live Tanto io Lascio tutto Tutto l'inizio Pozzo acceso fino a domani mattina Perché mi dà la vittoria Perché si sbaglierà Prima o poi Tristezza La prossima live Signori Stanotte La prossima live Vi raccomando Vi aspetto